Di Bello è stata veramente una cosa incredibile. In questi due giorni abbiamo avuto un afflusso di gente, di persone da tutte le parti d'Italia e anche d'Europa. Ieri c'era un ragazzo inglese, per esempio, che ha telefonato proprio, si è messo in contatto con i suoi amici di Padova per venire al November Park. Ci ha veramente parlato di questa manifestazione in modo entusiastico, quindi un altro motivo d'orgoglio. Comunque, veramente, sono stati due giorni da record. Bancarelle già saltate dalla mattina alle 11 di sabato. I punti particolari di Di Bello sono tanti. Sicuramente il nostro protagonista, che è sempre lo Strolghino, e tutti gli anni si aggiunge una fila. Quindi tutti gli anni c'è qualche metro in più, forse di più di qualche. Poi, comunque, laboratori dedicati al culatello di Di Bello, degustazioni, due bellissime feste giovani, con la gang di Io Parlo Parmigiano e due DJ al venerdì sera. Per poi continuare al sabato sera, dopo il mercato, dopo la chiusura del mercato, con una bellissima diretta della nostra radio ufficiale. E per concludere un bellissimo concerto live, con la soddisfazione anche di tutti gli organizzatori. Sempre più famiglie, ma anche sempre più giovani. Dobbiamo dire che il November Pork e la sua gastronomia e la cultura interessano sicuramente le famiglie, perché è un format che si adatta molto bene, artisti di strada, c'è la possibilità di portare i bambini in tutta sicurezza, ma anche i giovani. I giovani, oltre ai sabati e venerdì sera, affollano anche dal pomeriggio del sabato e della domenica la nostra manifestazione, ritrovando un po' quelli che sono i sapori del mondo piccolo e la gente del mondo piccolo. L'invito è quello di venire a Rocca Bianca la prossima settimana, perché lì si concluderà in bellezza un'altra edizione da record, la diciassettesima, lì vi saluteremo insieme a Telecolor, a TV ufficiale dell'evento, a Vladimiro Poggi, che è di là della telecamera e mi ha fatto fare questi speciali a me, ma comunque il giornalista bravissimo è lui. e quindi vi saluteremo di lì con veramente un'edizione ricca anche là di artisti di strada e di storia, perché nella Rocca ci sarà un mercato medievale e tante animazioni storiche dedicate ai rossi, che era la famiglia di Rocca Bianca.